Prima di tutto volevo appunto augurare delle buone commemorazioni per quanto riguarda la giornata nazionale della donna, anzi internazionale della donna perché appunto è internazionale, volevo appunto farvi a voi donne un augurio di felicità e comunque di tante cose belle comunque nella vostra vita e spero che vi vada tutto per il meglio. Come potete vedere da questo video comunque non monetizzato prima di tutto perché non mi sento in dovere di monetizzare un video abbastanza triste si può dire perché comunque dobbiamo parlare di notizie su una Zoom Eleven Victory Road ma è una giornata triste e insomma comunque posso entrare anche io un po' nel dolore ecco di certe situazioni ecco poi comunque ne tratteremo magari, ne parleremo. E oltretutto questo video non avrà tagli o almeno avrà tagli ma semplicemente per lavare respiri o comunque impappinamenti e quant'altro non avrà nessun audio di sottofondo perché voglio cercare di essere il più chiaro e anche il più serio possibile perché non voglio rendere tutto divertente. Se volete subito le notizie magari con un'area più allegra e quant'altro vi invito allo short che magari vi linkerò in descrizione. Allora le notizie quali sono? Vado a prendere magari il sito di riferimento perché appunto ho bisogno magari di un qualcosa a cui affibbiarmi. Allora il post riguarda Inazuma Eleven Series che in realtà è un account ufficiale di Level 5 semplicemente che traduce i post dell'account ufficiale di Inazuma in inglese. Vi informiamo che lo spazio necessario per scaricare, per fare il download della beta, della demo di Victory Road è di approssimatamente 2,8 gigabyte. Quindi può essere abbastanza importante magari dare spazio comunque a delle cose o comunque per quanto riguarda la beta di Victory Road. Semplicemente aspettate ancora un pochino visto che ci stiamo preparando per la distribuzione. Stanno preparando la distribuzione della demo e questo è importante soprattutto perché ormai siamo sempre più prossimi. Molti nelle diciamo nei post o comunque nei post di Twitter e quant'altro stanno variegando molte teorie. Infatti potete vedere che ci sono Gabi che in realtà indossa la numero 3, Nathan che indossa la 2 e Arion che indossa la 8. In base a questo visto che Gabi indossa la 3 che appunto diciamo è strano che mettono 1 con la 3 e appunto marzo mentre 28 ecco 2,8, 28 dovrebbe essere 28 marzo che appunto per questi qua dovrebbe uscire la beta. È una teoria un po' data a caso devo dire però insomma non mi sento effettivamente che debba per forza mandarla a fan. Soprattutto se vogliamo magari un qualcosa, un'altra cosa, queste sono le lingue supportate. Queste sono le lingue supportate, i diversi loghi nelle diverse lingue quali inglese, giapponese, coreano o cinese, cinese o coreano vabbè non ho ancora capito questa cosa, non capisco proprio le lingue in realtà. Poi francese, italiano che però penso che sia letteralmente la più brutta, soprattutto per quanto hanno dovuto strecciare. Infatti dire versione di prova per beta testing per tutto il mondo, piuttosto chiamalo versione beta per tutto il mondo è meglio. Incidi i cieli con il fulmine in azuma, diciamo anche lasciare un fulmine vabbè è meglio se non parlo. Poi tedesco, spagnolo e poi portoghese. Vi faccio notare che comunque le uniche che hanno proprio il logo diverso sono, a parte quelle coreane, cinesi o comunque giapponesi, sono la versione tedesca e la versione spagnola che letteralmente hanno scritto Heroes Victory Road. Sempre a loro le specialità, eh. Ulteriori news non sono ancora uscite, magari appunto si limiteranno a questo e insomma non so poi come continuerà la storia e quant'altro. Dobbiamo aspettare semplicemente le prossime settimane, tra l'altro magari il 28 marzo e cento di giovedì. L'oro, diciamo, level 5 va sempre pubblicato in azuma di giovedì, quindi insomma potrebbe anche aver senso. E' difficile comunque fare questo video, perché è una giornata brutta, almeno per la comunità. Intendo anime, manga, disegni, arte e quant'altro. Non voglio citare tanto l'accaduto perché comunque non voglio fare una notizia, non voglio fare una notizia perché ormai le avete vissero tutte quante, voglio semplicemente condividere il mio stato da minimo in questo momento. Sono triste, sono triste perché appunto... Dragon Ball ha rappresentato parte fondamentale della mia vita, ecco, la parte della mia infanzia e adolescenza per cercare di distrarmi appunto dalla quotidianità che mi stava reprimendo comunque, cioè nel senso mi stava ammazzando. Insomma, forse l'unica cosa che critico appunto nel rilasciare le notizie oggi è che non riesco ad avere una... o comunque parte della community, parte fondamentale della community che è comunque cresciuta con anime, manga e quant'altro non riesce a vivere le notizie in maniera positiva. E forse è una cosa che non riesco ancora a metabolizzare, ecco. Oggi non riesco a metabolizzare ancora dopo che sono stato a lavoro, sono tornato a casa e quant'altro per riportarvi le notizie. Cioè magari nel Meta 3 starò montando questo video, mentre lo pubblicherò ancora non avrò metabolizzato. Ehm... È una tristezza, è una tristezza perché comunque Akira Toyama ci ha lasciato e tra l'altro in realtà hanno dato la notizia letteralmente una settimana dopo. Hanno mantenuto segreta la cosa, ma non voglio entrare molto nella cosa perché sono decisioni appunto per loro e quant'altro. Quello che critico soltanto è magari aver annunciato una notizia del genere dopo un post di Akira Hino che appunto esercitava cordoglio per la notizia e quant'altro. E poi pubblicare la notizia così di Swincho, ecco. Mi sembra una cosa che comunque non è stata bellissima, però se devono effettivamente riportare notizie non credo che sia opportunamente sbagliato rilasciarle proprio ora. Ok? In un giorno difficile, in un giorno triste, ma appunto se devono per forza farlo, lo devono fare. Quello che rimane comunque è la tristezza del giorno. Io vi auguro comunque un buon proseguimento. E... Insomma... Mi viene difficile ora pensare che ora proprio l'autore stia vagando nel serpentore, ecco. Ho fatto una metafora po' brutta, però è l'unica cosa che mi viene in mente se devo collegare alla morte qualcuno, no? Soprattutto un qualcuno di questo calibro. Mi dispiace per avervi fatto questo sproloquio alla fine, non lo sapete come sono quando sproloquio, quindi so di essere un fastidio. Io vi auguro un buon proseguimento e insomma... Buona continuazione, buona commemorazione della donna e... Alla prossima. Ci vediamo. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.